chissà che è questo quando stai? questo che si muove così con la capocetta quando stai? qua, quello che si muove con la capocetta qua potrebbe essere in ginocchio, potrebbe essere una chiappa pure una chiappa la capocetta sta qui a fa cucù perché? per parlare di calcio, ultima giornata bisogna fare il pagliaccio calcio paccio massimo campionato di calcio di serie A ci getta nello sconforto io? come artista generico saltimbanco pensavo parlare di lavoro serio no, saltimbanco sono iscritto a linkedin come saltimbanco se vi serve per caso per le vostre feste un saltimbanco eccolo qua, ci sono io ma adesso parliamo del massimo campionato di calcio di serie A che ci abbandona all'improvviso non ho mai ricordato sta cosa meno male che ci sono gli europei a tamponare meno male perché se no come facevamo fino a poi vabbè finiti gli europei poi ci stanno i miei amicheoli il mercato e piano piano si rientra nel clima e quindi si rientra nel clima lo stacco non è è soft allora si conclude con la retrocessione magari un po' di olimpiadi però insomma almeno per vabbè sticare tutto sommato sticare si si però la nazionale olimpica tu dici noi olimpiadi no 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 l'olimpiadi proprio è carino quindi parli anche di altri sport come mi piacciono i tuffi queste cose così no i tuffi mi rompono tremendamente ma che cazzo no no però che cazzo ti piace il lancio del giavello 8 eh si sei l'atletico mi piace ma questo sport minori ci sarà un motivo insomma ne ho deciso io no 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 il globo il globo terracchio allora il Carpi mi retrocede e questo mi dispiace nonostante sia andato a vincere a Udine ma nulla ha potuto di fronte al al Palermo di Gilardino che si è imposto per 3 a 2 e pare nonostante il pur bravo e pare sembra che negli ultimi 20 minuti come non si sia giocato a calcio che forse c'erano dei cecchini appostati sugli spalti pronti no stai facendo le accuse che dovrai dimostrare me l'ha detto il barista una volta chi è il barista non è il barista quello dove siamo nel sud quello dove siamo nella facolazione quello ha ruttato ma dove siamo in una bifolcheria stiamo registrando la rutteria è qua fuori alla rutteria abbiamo un locale si chiama la rutteria ma sai che figo dove uno liberamente può dare sfogare un locale normale sono fatto la barba un locale normale dove si mangia però se tu non vuoi pagare scusa c'hai la barba se tu non vuoi pagare il conto completo devi ruttare no sente di mente che paghi il conto tra tutti quelli che hanno mangiato la salata no no un locale normalissimo con tutti gli altri dove però si può ruttare si può ruttare è bellissimo ah secondo me si ma non abbandonarsi le volgarità no 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 chi vuole può ruttare fantastico il miglior rutto solo bibite castate riceve solo bibite castate oh e quindi il carpi insomma è retrocesso mi dispiace perché è espresso un buon gioco insomma Castori è un allenatore il padermo invece cambiando quindi la politica di cambiare nuovi allenatori a settimana ha pagato per il rotto della cuffia addirittura ha disegnato Maresca che non segnava tipo da tre anni e quindi ci sta la ci sta in mezzo la Juve Maresca ha giocato nella Juve e quindi perché ha fatto 21 nella Juve 40 anni fa allora la Juve che prende piani c'è tra l'altro per 38 milioni si è rassicurata questo fantastico giocatore che risolve le partite scontento? è una battuta questa lo dicono i numeri lo dico io ma mi pare tanto di pesare il culo il nuovo Pirlo insomma il nuovo Pirlo sei contenti? chi? voi 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 della Juve ma io non c'entro niente tu dai mi attribuisci ste cose io sono del Pescara ah del Pescara ah bene abbiamo scoperto oh e la Lazio la Lazio beh ha dato l'estremo saluto l'estremo unzione a Miro Close sì questo bomber questo è un bomber vero eh sì questo ancora potrebbe giocare ma questo è capitato va di la Lazio o al calcio come funziona? no penso non meno a svernanano un Bundesliga ma per forza ma quello sì ma se gli fai i cross questo è ancora pronto e tu gli metti una squadra dietro invece Tony è proprio lasciato Tony ha lasciato ma questo è brutto ma ha lasciato pure di Natale all'Udinese però no 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 ha lasciato proprio no questo mi ha detto io mi ne vado in vacanza poi vediamo ha detto beh vabbè ma questo magari negli States secondo me sta ancora in segna calcio sì 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 capace invece Totti ancora non ha firmato Totti pure negli States come negli States? negli States no 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 Totti deve firmare deve firmare quello che gli ha detto ci devo pensare gli ha detto vabbè ma così se la sta un po' a tirare se la sta a tirare quello guarda è quello se fa rode non è che ma perché non se favo rode secondo tu sì ma tu ma tu prima mi avete rirotto le palle che tu questo ne aveva firmato sono andato là gli ho fatto firmare e dice beh no ma ci devo pensare è quello che io volevo ma che gli hai proposto? che ne so l'hai fatto ride? tu lo devi far ride lo devi far ride? è certo lo devi far ride tu sei Totti magari gli hai dato guarda questo è un piatto ma quello si è saggiato di pasta e fagioli firma no fa tu il cazzo io ti risalvo le partite ancora a 40 anni bello? bello vabbè vediamo un po' però è cosa parlo a tasso via quello che faceva il caffè la reglame quello siciliano quell'attore che faceva la reglame del caffè tu fai le mani qua sotto non si vedono è inutile quello che faceva la reglame del caffè quello quell'attore quello siciliano dai quello del teatro non è che faceva eh? dai dai che il tempo passa Pino Caruso Pino Caruso ecco pallotta assomiglia a Pino Caruso un saluto a Pino Caruso che nonostante la veneranda età ma non si è morto ma quale è morto? ma purello dai già c'è una moriade sì davvero rimangono questi quattro cani almeno questi voglio dire noi facciamo parte dei quattro cani noi siamo la nuova generazione di Farid no noi non siamo una cosa a parte non ci possiamo confondere allora signori il discorso è serio e se voi volete per le vostre feste per le vostre web radio per le vostre radio web radio televisioni web tv qualsiasi cosa dove ci sia la gente un salto in banco un salto in banco ma anche due un salto in banco il gestore del salto in banco noi siamo a vostra completa disposizione esatto io ve lo porto a prezzi proprio irrisori io ve lo porto lui si muove balla si agita gli tirate le noccioline le prende al volo insomma e facciamo la giornata poi trattate il prezzo con me poi qualcosa gli allungano eh meno male va bene ok perché se non si è morto un po' per cazzo lo so due anni che fa morita gratis vorremmo anche monetizzare va bene un saluto va bene